ciao ciao rossi oggi vi parlo del mio album miomed in particolare di un brano che si chiama the black dog che parla appunto di un cane nero che ti si siede sulla testa che ti succhia le energie che ti mangia le cose che si siede sopra che è una roba che non ti lascia vivere ecco quando ho spedito il testo alle cantanti di New Orleans queste mi hanno scritto non capiamo di cos'è che parli in questo in questo album chiaramente io spero è tutta una metafora no il brano parla del problema della depressione cioè di quelle persone che soffrono di depressione che viene identificata appunto con un cane nero che ti soverchia e ti impedisce di vivere tutto qua e naturalmente ecco questa non è una depressione non è sentirsi depressi che oggi le cose vanno male è una malattia di cui soffre tantissima gente io ho voluto parlarne perché è uno dei mali del secolo cioè tantissime migliaia di persone soffrono di questa cosa qua e c'è anche addirittura un filmato su su youtube dove viene raccontata questa questa malattia tramite appunto un cane nero enorme che io l'avevo visto mi ho tratto ispirazione e ho detto ah è interessante ciao scriviamoci un testo sopra tutto qua vi lascio con l'assaggino così vi sentite un pochettino ciao grazie a tutti